Onorevole Mario Valducci, siamo a Pontecchio Marconi alla presentazione di una ricerca della Fondazione Ugo Bordogni e Cotec su ICT, competitività e ricerca. La mancanza di competenze, il cosiddetto skill shortage nel settore dell'ICT è davvero un'emergenza per il nostro Paese o secondo lei il problema risiede in un'endemica incapacità di valorizzare le risorse disponibili con una vision di lungo periodo? Non c'è dubbio che una società più digitale, più informatica, porta alla possibilità di una crescita della ricchezza interna più importante e anche all'eliminazione di alcuni fenomeni come l'eccesso di sprechi o di corruzione che sono troppo presenti nella nostra società. Per far questo è necessario sicuramente creare un divario che c'è oggi nel nostro Paese che è legato soprattutto al tema dell'alfabetizzazione dove sicuramente una popolazione adulta ha difficoltà a poter utilizzare questi nuovi mezzi ma nello stesso tempo dobbiamo favorirla considerando che in ogni nucleo familiare comunque c'è sempre un nativo digitale o qualcuno della famiglia che è in grado di poter dare questo tipo di supporto. Sicuramente la scuola e l'università devono ancora fare passi in avanti rispetto alla preparazione dei nostri giovani sia sul tema delle lingue come è stato detto stamattina ma soprattutto sul tema dell'utilizzo di questi nuovi strumenti non solamente per quanto riguarda social network ma anche proprio per l'attività lavorativa e familiare e nel rapporto con la pubblica amministrazione. Qui stamattina abbiamo sentito tanti spunti interessanti, non ultimo quello della Lepida, questa rete di infrastruttura di reti nuova generazione presente in Emilia Romagna che collega tutte le istituzioni più importanti che sicuramente sono un modello da poter portare anche a livello nazionale per poter poi sviluppare reti analoghe nelle altre regioni. Se viene riconosciuto il ruolo strategico dell'ICT e anche quello della ricerca in Italia siamo in grado o saremo in grado secondo lei di competere con le economie emergenti? Questo è l'unico strumento che ci consente di rimanere competitivi in un mondo globale noi in Parlamento abbiamo iniziato a lavorare su diversi provvedimenti legislativi legati all'agenda digitale il governo lo sta facendo parallelamente tutti noi ci auguriamo che da qui a pochi mesi ci possa essere un pacchetto di leggi, di riforme, di norme che vadano alla giusta direzione proprio per far sì che la nostra società sia messa nelle condizioni di essere più moderna e quindi più competitiva. In ultimo le ha parlato Onorevole Valducci di un progetto di rilancio per il Paese quale deve essere il ruolo attivo del governo, della politica in questo progetto di cambiamento e chi altro deve giocare un ruolo significativo, università, ricerca, imprese e chi a suo avviso può contribuire a un reale cambiamento? Sì, io ho parlato che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, troppo spesso abbiamo parlato solo di numeri abbiamo portato avanti azioni anche legislative necessarie, indispensabili ma sempre legate ai numeri e sempre a cercare di superare un momento di difficoltà noi oggi invece dobbiamo affrontare una crisi che è una crisi strutturale e non congiunturale che deve vedere il nostro Paese in grado di formulare una nuova missione per poter rilanciare la nostra società e quindi anche migliorare la crescita in termini di ricchezza del nostro Paese e consentire a tutti i nostri figli e nipoti di mantenere quella fascia di benessere a cui ci hanno lasciato i nostri genitori. Quindi questo è l'obiettivo della politica e io mi auguro che quanto prima si incomincia a parlare di questo e meno dei numeri avendo superato alle spalle l'emergenza. Grazie all'onorevole Mario Valducci